Mi sembrava molto adatto questo brano per introdurre il documentario che si intitola in italiano L'immagine della felicità, i segreti della famiglia Duggar, il titolo originale invece è Shiny Happy People, Duggar Family Secrets, è un documentario diretto da Olivia Christ e Julia Willoughby Nason e lo trovate su Prime Video. Da cosa prende avvio e perché dovrebbe essere interessante vederlo? Raccontami perché io sono proprio alla larga. Allora, questo documentario si basa sulla storia di una famiglia che è appunto questa famiglia Duggar che voi direte non la conosciamo. Forse vi sarete imbattuti in uno show che in italiano si chiamava 21 sotto un tetto, pubblicato su Real Time. In America invece andava sulla TLC e è partito come 17 Kids and Counting e poi è diventato 19 Kids and Counting perché nel frattempo hanno fatto altri figli. Ci sono i due genitori che sono Jim Bob e Michelle che hanno dato alla luce 19 figli. Quanti? 19. 1 a 9? 19 counting. 21 perché 19 più 2 più i genitori. Quindi 21 sotto un tetto. La famiglia Duggar è una famiglia di devoti cristiani battisti indipendenti. Dipendenti non si capisce che vuol dire. Vabbè comunque. Battitori liberi. Dovrebbero seguire quello che è un movimento cristiano fondamentalista che si chiama Quiverful. Qual è la storia? La storia appunto è di questo reality, di questa famiglia che in quanto fondamentalista cristiana ha tutta una serie di regole tipo non ci si bacia prima del matrimonio, le donne devono essere vestite in un certo modo, hanno tutte gonne che arrivano più o meno al ginocchio, sotto il ginocchio o lunghe. Le figlie tra uomini e donne ci si può abbracciare solo di lato, cioè nel senso non davanti. È come il pugno di lato di maccio. Ti abbracciare di lato e in generale fra un uomo e una donna ci devono essere credo almeno 15 centimetri di distanza se stanno uno davanti all'altro, ovviamente se non sono marito e moglie. Vabbè, questa è una delle tante regole. È piuttosto precise. È una famiglia, il reality in America è andato in onda per parecchio tempo, tra il 2008 e il 2015. È stato poi sospeso e cancellato a un certo punto. Questa serie affronta non tanto il discorso del reality quanto i rapporti fra questa famiglia d'Aggar e quello che viene definito l'Institute in Basic Life Principles, che è un'organizzazione americana, sempre di cristiani fondamentalisti, che ha una storia gigantesca. È stata creata, fondata da Bill Gotthard nel 1961. Che cos'è? Una specie di enorme istituzione educativa, in cui vengono raccolti giovani cristiani e cristiane appunto molto fondamentalisti e vengono educati in base a una serie di principi che sono raccolti in tutta una serie di libri ovviamente che loro devono comprare e sui quali devono studiare. Parliamo di tutti i ragazzi e ragazze che fanno homeschooling, quindi non vanno a scuola, ma vengono educati in casa in base a questi principi contenuti in questi libretti, che sono tutti principi derivati dalla Bibbia, in qualche modo, e che vanno a coprire tutte le aree della vita quotidiana, ma anche, credo, dell'economia. Cioè è tutto quanto letto attraverso la Bibbia. Ma come la famiglia Flanders, ad esempio. Esatto! Esattamente come la famiglia Flanders. Proprio esattamente come la famiglia Flanders. Io ricordo una gaff gigantesca fatta in un contesto simile, dove ho citato una frase di Ned Flanders. No, come si chiamano i figli dei Flanders? Uno dei bimbi ha fatto La sei la barzelletta di Isacco e Roron! Esatto, esatto. Non è stata recepita molto bene. Ecco, il genere è quello. Perché c'è qualcosa da raccontare addirittura in un documentario? E addirittura in un documentario ha episodi, mi pare. Addirittura? Sì, cinque episodi. Perché praticamente questa Institute of Basic Life Principles non è solo una organizzazione, diciamo, di educazione, ma diventa una specie di organizzazione di reclutamento. Nel documentario piano piano vengono fuori tutta una serie di abusi che venivano perperlati all'interno di questa istituzione e anche in parte nella famiglia D'Aggar. Non a caso uno dei figli della famiglia D'Aggar è stato prima accusato di molestie da quattro delle sue sorelle e poi di possesso di materiale pedopornografico, motivo per cui è stato poi condannato e che credo sia ancora in galera, motivo per cui è stato effettivamente poi cancellato lo show. Però a parte questo, che è un discorso, diciamo, privato, quello che è interessante è come poi ci sia una ricaduta sociale di questo tipo di organizzazioni nell'America, anche moderna. In particolare, verso la fine del programma, del documentario, viene citato un progetto che si chiama Generation Joshua, che è praticamente una sorta di organizzazione giovanile fondata nel 2003 che incoraggia i giovani a partecipare al governo, alla politica, seguendo però questi valori cristiani molto conservatori. Quindi molti dei giovani che sono stati educati, secondo questi principi all'interno di queste istituzioni, si trovano tuttora e stanno facendo carriera all'interno del governo americano. Quindi con l'obiettivo non nascosto, ma tra l'altro nel documentario parla uno degli ex capi di questa Generation Joshua, che ovviamente fuoriuscito, con l'obiettivo non nascosto di arrivare alla Corte Suprema e quindi di diventare giudici della Corte Suprema e di poter quindi decidere, come abbiamo parlato all'inizio della smissione, anche come abbiamo detto all'inizio della smissione, per esempio in materia di aborto, per dirne una. Quindi insomma, come vedete, quello che può sembrare un semplice e idiota documentario su una famiglia di un reality che ha fatto una brutta fine, che insomma tuttora in realtà ha fatto una brutta fine relativamente, perché il padre ha provato anche a... sia il padre che uno dei figli hanno provato ad essere eletti, forse il figlio è stato anche eletto negli loro stati di appartenenza nell'Arkansas, se non sbaglio. Hanno sicuramente 19 voti a favore. Sì, sì, ma credo che ne abbiano avuti anche di più. E in realtà scoperchia un vaso di Pandora, tra l'altro ci sono tantissime interviste di altre persone fuoriuscite da questo Institute in Basic Life Principles, che ovviamente sono state rovinate nella loro vita da questo, donne che hanno subito violenza domestica perché, secondo il principio del donna si sottomessa a tuo marito, non potevano né parlare perché se parli fai pettegolezzo. Quindi se ti succede... Cioè se qualcuno ti... Questa è una cosa che veramente ha fatto uscire dalla grazia di Dio, a proposito. Letteralmente. A un certo punto si parla di questa cosa e si dice le donne che subivano violenza non potevano parlare di questa cosa a terzi, perché secondo, appunto, ispirazione della scrittura non si fanno mormorazioni, quindi non si pettegola con altri, per cui in teoria questo problema dovresti risolverlo con la persona che ti ha fatto questa violenza. E basta. Cioè se hai un problema con qualcuno vai a parlarne con quel qualcuno, fatto sta che poi non lo puoi fare, ovviamente, quindi il problema te lo tieni. Anzi, non solo. La violenza era una sorta di, diciamo, modo per avvicinarsi ancora di più alla santità e quindi a Dio, perché in qualche modo tu te l'hai rimeditata, perché il discorso è sempre... Ah, pure! Sì, te l'hai rimeditata, perché la donna in sé è provocatrice, quindi se l'hai meritata, e quindi il fatto di subire questa violenza in qualche modo purifica questo tuo peccato iniziale di essere donna, fondamentalmente, e quindi non solo è... Te la devi pure tenere. Tant'è vero che una ragazza, di quelle che appunto fuoriuscite che raccontava, diceva io a un certo punto quasi ero invidiosa delle amiche che avevano subito violenza perché avevano qualcosa in più, cioè erano più vicine alla santità, tra virgolette, per aver subito questa sofferenza. Io ve lo dico, è un documentario che fa arrabbiare tantissimo, però mi ha fatto anche un sacco capire da dove vengono certe idee che ritroviamo nella politica americana, nel Trump stesso, ma lui secondo me in maniera totalmente strumentalizzata, perché non mi è un pazzo che a Trump si è mai fregato di meno di questa cosa, lo utilizza solo ed esclusivamente per poter acchiappare questo tipo di elettorato, che è un elettorato estremamente potente negli Stati Uniti, perché questo Institute in Basic Life Principle è un'organizzazione enorme e piena di soldi. A un certo punto hanno cacciato questo Bill Gotthard, che era il fondatore, che ovviamente è stato accusato da tutta una serie di donne di violenza, e quindi è stato cacciato, ma perché? Perché a un certo punto non serviva più. E quindi ci sono persone che fanno lo stesso lavoro sporco, magari in maniera meno evidente e visibile, che continuano a perpetrare questo tipo di situazione. Grazie per avermi regalato un po' delle emozioni che hai provato, grazie soprattutto anche ai messaggi che arrivano da WhatsApp, che effettivamente hanno raggiunto l'obiettivo. Sia Kira che Andrea nello stesso minuto hanno risposto alla domanda... Rod e Todd, esatto, bravi. I figli di Lance Flanders e della... Come si chiama la signora Flanders? Maud. Maud Flanders. Che è buonanima, poi passa a miglior vita dopo aver ricevuto una maglietta lanciata dal Mr. Duff, però la prende con troppa violenza. Per colpa di Homer, Claudio. È colpa di Homer, sempre colpa di Homer. Dobbiamo chiudere, perché siamo quasi arrivati alla fine e sta arrivando anche Gustavo. Certo. Però ci dicono che esiste anche un'altra serie che si intitola Under the Banner of Heaven. In nome del cielo. In nome del cielo, una serie basata sul romanzo. Ok, anche questa probabilmente... Sta su Disney Plus. Vabbè, insomma, ce ne sono di queste cose. Ripeto, fanno molto arrabbiare, però chiariscono, secondo me, un po' certi meccanismi che da noi sono relativamente diffusi. Perché? Perché noi abbiamo effettivamente la chiesa ufficiale. Cioè, questa cosa, secondo me, che non è che sia meglio su alcune cose, per carità, però, non so come dire, ha, con il suo dominio completo, dà meno adito a delle derive diverse. Non so, delle ulteriori... Non so se mi sono spiegata. Poteva andare peggio? Sì, secondo me poteva andare peggio. Ho capito. Quindi ai confini dell'impero le cose vanno peggio. Sì. Ok, non sono completamente d'accordo, però appunto, ci sto, ti seguo. Al 351-5241-101 arriva un link per salva solo una sana consapevole libinine, virgola, salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Zucchero. Credo di aver trovato anche la sigla della serie. Ok. La riconosci, la sai... No, io la serie non la guardavo, non l'ho mai guardata. Allora, è solamente accessoria, ma a questo punto Shiny Happy People chiama a Riem. Facile, facile, perché no?